Nelle ore in cui i sindacati metalmeccanici hanno chiesto di incrociare le braccia ai lavoratori di Arcelor Mittal a Taranto per evitare il contagio da Covid-19, scrivono all'amministratore delegato del gruppo italiano Lucia Morselli, anche Confindustria e l'onorevole De Giorgi. Dall'Associazione degli Industriali Tarantini parlano di segnalazioni di una situazione assolutamente critica, prima fra tutte quella riguardante i dispositivi di protezione individuale rese obbligatori che mancano, non sono procrastinabili misure come la distanza minima di sicurezza, la limitazione dello spostamento all'interno dei siti, la necessità inderogabile di precludere gli accessi agli spazi comuni, in ragione di quanto prospettato e dall'aggravarsi della situazione, chiedono alla D di porre misure con massima urgenza e, laddove le problematiche fossero non superabili, anche la sospensione di attività e lavorazioni non interferenti con la continuità produttiva. La parlamentare tarantina del Movimento 5 Stelle fa invece riferimento alla possibilità di attuare lo smart working, di dotare l'intero personale alle dipendenze, gli adeguati strumenti di protezione individuale, rafforzare le operazioni di sanificazione dei luoghi, sospendere attività dei reparti aziendali non indispensabili. Una maggiore attenzione, sottolinea l'onorevole De Giorgi, da riservare anche a favore della cittadinanza Tarantina, da tempo costretta, dice a convivere con emissioni derivanti da un'attività industriale il cui impatto nocivo sulla salute della popolazione è testimoniato da numeri che, in costante aggiornamento, disegnano una realtà drammatica caratterizzata da malattie e morte.